Certo che in realtà ci vedranno in questo nuovo video, io sono l'Oragg Zerochette e oggi reagiremo a una nuova serie ovvero i TikTok di Among Us, vediamo, ok, si arrabbia, like, bello. Carino, vediamo qua, ok, si, oh, no, capito proprio bene, oh, 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 ah, si, no, Ah, va, oh, no, peccato. Ecco, tac, no, no, draga. Ah, no, no, cosa? Questa è una bella giocata. No, 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 c'è. Crewmate. Perché ti ha una bella giocata? Non farti beccare. No, no, rip, red, rip, green. Ok. No. No. Questo è il video. Vai. Lo devi salvare. Qui. ok sono due no nooo raga peccato no 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 cos? what? nooo cioè impostori si abbiamo voluto bene in realtà ragazzi ritorneranno anche i video di among us perchè ne ho fatto solo uno degli altri brawls qua ok le porte immediatamente oddio ok fake fk ok ok ragazzi mi sa che lo devo provare a essere finto fk voglio vedere se qualcuno non mi chilla insomma se sono l'impostore sono l'impostore eee la fine nooo nooo sempre gli annunci ci ci sono che bello proprio nooo 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 ok bravo impostore bravo 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 oh mio dio nooo 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 ehm ok 4 lo schifano e nulla oh oh nooo nooo peccato però vada nooo nooo peccato ci stava sperando però nulla vabbè ragazzi spero che il video vi sia piaciuto lasciate like e iscrivetevi al canale ciao